bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2022 altro video aggiornamento fatto senza webcam in maniera molto rapida perché oggi escono indiscrezioni uno dopo l'altra ma questa è davvero molto molto interessante prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi inoltre voglio ricordarvi che questo video offerto dalla galatti games potete comprare tutto il nostro mercantile sin tramite il link che vi lascio in descrizione è un ottimo modo per supportarci quindi mi raccomando se avete la possibilità fatelo allora ragazzi sul database di steam relativo ai test interni degli aggiornamenti fatti da konami per quanto riguarda i football 2022 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento appunto un nuovo test di un aggiornamento relativo a un dlc chiamato pes 2022 full game in fase interna ovviamente perché tra di loro gli aggiornamenti relativi al gioco li chiamano cioè il gioco lo chiamano proprio pes 22 o pes 2022 quando scrivono gli aggiornamenti su steam hanno sempre fatto così in tutto in tutto quest'anno non è la prima volta che vi faccio vedere il database di steam comunque è stato inserito proprio oggi questo pes 2022 full game come dlc potete vedere di quasi 500 megabyte per la precisione 495.80 che cosa significa allora provo a spiegarvelo un secondo innanzitutto bisogna sapere che domani giovedì 17 marzo si concluderà la presia son match campaign volume 3 di football 2022 quindi probabilmente inseriranno qualcosa di nuovo ecco questo qualcosa di nuovo può essere proprio relativo a questo dlc chiamato internamente tra di loro tra gli sviluppatori pes 2022 full game che vuol dire gioco completo full game quindi io mi sono fatto diverse idee sicuramente domani succederà qualcosa uscirà qualcosa potrebbe essere anche semplicemente una nuova campagna quindi magari il volume 4 è la campagna però con qualche modifica perché altrimenti non si spiegano i 500 megabyte dlc assolutamente non è l'aggiornamento 1.0 ragazzi voglio che sia chiarissimo anche perché domani non è nemmeno iniziata la primavera e lo hanno promesso in primavera quindi nella maniera più assoluta non è assolutamente l'aggiornamento 1.0 che esce a sorpresa quindi non confondetevi perché non stiamo assolutamente parlando di questo ma stiamo parlando appunto di un dlc aggiuntivo che sicuramente andrà a implementare qualcosa nel gioco e potrebbe essere anche la semplice campagna volume 4 con qualche modifica magari relativa al gameplay sicuramente non alla grafica del gioco quindi non è il passaggio ad esempio dal real engine 4 al 5 perché 500 megabyte sono troppo pochi potrebbe benissimo essere l'aggiunta di tutti i club offline e magari la possibilità di cambiare il minutaggio o potrebbe anche visto comunque la dimensione la dicitura full game come ho già detto essere un aggiornamento del gameplay e magari un inserimento delle lobby per fare le amichevoli ma non speriamoci troppo ragazzi io sto riportando solo questa indiscrezione non c'è nulla di ufficiale perché questi dati sono presi sì dal database di konami relativo ai test interni ma non c'è un comunicato ufficiale quindi potrebbe essere anche che questo pes 2022 full game non è relativo a quello che succederà domani però siccome è stato pubblicato oggi siccome domani finisce la presia son match campaign volume 3 e devono mettere qualcos'altro questa cosa fa ben sperare ecco fatemi sapere nei commenti secondo voi che cosa succederà domani oppure se questo pes 2022 full game non c'entra niente con quello che accadrà domani qualunque cosa accadrà io voglio sottolineare comunque che l'aspetto che mi reca parecchia curiosità è la scritta full game perché scrivere full game gioco completo ma potrebbe essere davvero di tutto magari è l'implementazione del gameplay nuovo e reale di football non si sa staremo a vedere io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto da nostro simoplay bella ragazzi ciao